buongiorno ragazzi ragazzi guardate un video che devo fare subito perché sono incazzato troppo sto pure guidando manco dovrei farlo però c'è io dico porca porca puttana io non esco più cioè esco da solo come adesso c'ho sempre la mascherina mangio sempre il più possibile da solo e distanziato pochissimi contatti appositamente non scopo cioè non mi va neanche c'è c'è mi va di scopare però non lo faccio perché capito le che non conosci che ne sai poi il distanziamento certo è una estinenza di scopate da un anno e i contagi aumentano ma che cazzo fanno le persone state venere tranqui buoni o già vi contiene le faccio la vita di clausura e invece di vedere le cose che diminuiscono i contagi rinuniscono il coppia finisce aumenta sempre che cazzo fai il mio incazzo sta cosa